E ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Kirby's Return to Dreamland Deluxe Comincia il mondo 6, Industria in voltino La scorsa volta ho completato il pianeta pop con quello che sembrava essere la fine Ma in realtà sapevo benissimo che c'era un altro mondo almeno da affrontare Perché beh, gli ingranaggi, le spalle di energia non riportavano E quindi ho detto, vediamo un po' che succede, ci sarà sicuramente un mondo 6 Ed eccolo qua E comunque, anche il mondo 6 non riporta perché ci sono 21 ingranaggi da trovare Ingranaggi, spalle di energia, chiamatele come volete Non riportano e quindi ci sarà sicuramente un mondo 7 Questo non crolla, ah, crolla solo quando ci vado vicino proprio, eh Ok, perfetto allora Guarda qua che robina che ti faccio, vai Non mi fermo per niente Tutto in volata Vai, ole No, amico mio, no Ah no, e invece sì, devo andare, devo andare, devo andare, devo andare Eh, stavo così per cascarci Me ne sono accorto dopo che era partito insieme alla botta lì Che succede qui? Che cosa? Ah tu dici potevo prendere lui e fare danno ma... Eh, no, non era necessario Perché io poi... Boh, non lo so Comunque, va bene Ah, un panaino? Ciao Ok Oh, 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 oh Perfetto, andati Ok Continuiamo Interessante sto mondo in voltino, eh Primo livello non è male Ciao Eh, sì, amico mio Ah, per chi mi hai preso? Cosa? No Che errore madurnale che ho fatto Che sbaglio... Ah, ma Kirby recupera energia quando dorme? Vero? Recupera energia se non sbaglio Però non c'è nessuna energia da recuperare se... Se non ho danni Vabbè, andiamo avanti, va Quello è scappato all'improvviso Ohioi, cosa ho fatto? Mi sono fatto colpire apposta Certo L'importante è che ci credo Ah, andiamo Ok Ma io non voglio andare Non voglio andare io Come faccio? Ma scusami Se non volevo andare Come facevo? Ma... Ma scusami Potevo scendere in qualche modo? No Non... Non potevo scendere da lì O sì, o potevo Boh, non lo so Comunque sia Dovrò rifarlo Perché a quanto pare Non avrendo preso gli ingranaggi Vabbè Ci ritorno E questo? Ah Niente, non passa Eh no Niente, non va Vabbè Boh, non lo so Mi pare strano sto mondo Molto strano Non lo so C'è qualcosa di molto strano Ok Let's go Più veloce Dell'ultima volta Eh, qui serviva Ottimo Vabbè Almeno uno Lo prendo Dai Ma no Ma poi Ma non serve neanche Per la spalla di energia Che seccatura Vabbè Non che servisse Il pomodoro Ma Non mi piace Ma che cos'è questo? Non si può? Non si Te pozzi No Ah Perché c'ha le stelline Certo È giusto E quindi esplodono? Eh Eh vabbè Sì anche questo però Eh grazie Per sicurezza Eh Non si sa mai Non penso che io debba Rimanere fermo Ad aspettare Che questi Vadano cattò Ma comunque Eh infatti Sì Già sono praticamente Andati Ah ok Andati pure questi Vai Eccolo No Per favore Scoppia Ecco Ottimo Uno Si si abbassa Ecco qua Due È bello che Vadano praticamente K Appena L'effetto Del potere Arriva Carina come idea Quindi Due Quindi due C'è la Fenix Due Due Sfere di energia E una Devo prenderla In quel punto lì Dove non sono riuscito Ad andare Ma Cosa Che No ma Di già Ma Ma no Ma no Oh Vabbè però Mi ha preso La sprovvista Proprio Ecco qua Oh Perfetto 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 Grazie a tutti. Ok, fatto. Wow. Intenso, intenso davvero. Uioioi, allora che ci becchiamo qua? Ninja? Dai sì, cammino a lanciare lo shuriken. Ok, bene. Beh, così è facile però, eh. Beh dai, questa era facile. E qua sopra nient'altro, perfetto. Ok. Non lo so, non lo so. Le 85 sfere di energia che ha raccolto hanno riattivato la porta della stanza delle abilità. Quattro. E mo' ci ritorno però perché devo prendere un altro ingranaggio, un'altra sfera di energia che non so che fine abbia fatto. Rieccoci alla parte che ci interessa. È molto semplice in realtà prendere la porta segreta. Ok, possiamo ancora andare. Basta solo avere il tempismo giusto, no? Eccolo qua. Perfetto, ora possiamo andare. Allora, e... Ah, sì. Beh, certo. Sono stato stupido io. Eccolo qua. Oh, è grande. Il problema è ora che mi tocca rifinire il livello un'altra volta. Eh, facciamolo. E questo è fatto al 100%. Bene. Allora, ora tocca al livello 2 che si trova qua sotto. Andiamo. Oh. Ok, molto base. Tra l'altro, ho letto da uno di voi che c'era un'altra parte del livello finale che ho affrontato l'altra volta. Una specie di altra uscita, mi pare, di aver capito. Una cosa del genere. Probabilmente... Non era quello, ma ho capito cosa intendeva. Comunque sia, penso di farla, magari. Ok. E siamo Kirby Fuoco, ora. Cavolo, è aggressivo, eh. Sono aggressivi sti cosetti. Voglierei dovremmi ritrovare contro. Ah, va bene. Questo possiamo farlo così. Ah. Interessante sto livello. Il 2 è molto diverso dal primo. Ci sta. È bello che sia diverso. Ok, se c'è Frosty vuol dire che serve. Non so cosa ho appena fatto, ma l'ho schivata alla grande. Allora, sto schivando a fortuna. Eh, infatti, vedi? Aspetta, lo senti? Eh, no. Allora, non so. Perchò sbagliato. Oh, ecco. Questo. Se riuscissi a farlo. Allora, non ho più il souvenir, vero? Non l'ho rimesso. No, e infatti sto a corto di vita. Ma questo voglio fare io, vedi? Perché non funziona mai con me? Oh, vai, rifocigliamoci. Ah, top. Dai. E uno. Oh, rifocillato un pochettino e possiamo andare. Non abbastanza, ma qualcosina, dai. Oi, oi. Ok, ci può stare questo. Dici che mi serve tirvi pietra? Non mi fido, ma facciamo così. Bene, 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 bene. Oh, ora siamo carichi. Grande. Oi, oi. Questa non è bella. C'è solo questo, di value. Ok, prendiamo questo e andiamocene. Ciao. Ma guarda, io per le stelle sinceramente non mi ci spreco. Non mi ci sono mai sprecato fino ad ora. Quindi non capisco perché farlo adesso. Pensiamo solamente a proseguire... Pensiamo solamente a proseguire il livello, dicevo. Ah, ah, ecco perché. Ah, no! No, 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 tu non hai capito niente. No, no, amico, io sono matto, eh. Io sono matto, amico mio. Io mi rifaccio tutta la strada pur di andare a prendermi di nuovo il power up, eh. Vai, power up, trasformazione, sì. Eccolo qua, preso. Sapevo che ce n'era una sicuramente da prendere qui con queste cose che girano. Era un po' troppo ovvio, dai. In tutti i videogiochi, quando c'è una parte un pochino più complicata, ti mettono l'oggetto del desiderio. Qualcuno è andato K, ma non so chi. Però non importa. Ah, ah, qui serve ancora il power up, eh. Bene. Ok, va bene anche così. Però uno è sprecato, ho già un utilizzo. Bellissimo. Quanto mi piace questo potere. Ottimo. E è finito. Peccato. Allora, questi sono buoni fino a che non... Ah, non puoi aspirarli quelli. Pensavo di sì. Ok, errore mio. Pensavo proprio di sì. Ah, chi è il nemico qua ora? Ah, Dubior, eccolo ora. Infatti era comparso l'altra volta e dico, ma Dubior cos'è? Ah, se ora fa l'attacco che mi spara l'energia contro. E' andato, direi. Prendiamolo perché ci serve il potere. Elettro! Chi è il nostro prossimo nemico? O meglio, sarà un altro Fenix? Tutti i Fenix ci danno ora? No, dai, non credo. Ah, non l'ho fatto scoppiare. Oh no. Ma che fortuna! Ma che fortuna! Ma che fortuna ho avuto! Che fortuna sfacciata! No, volevo... Oddio. Allora, stiamo attenti, eh. Perché mi sono lanciato come un idiota? Pensavo salisse prima. Ok. Possiamo continuare. Allora, aspettiamo con calma? Eh, magari, eh, Andrè. Con la calma si riesce a fare tutto, eh. Tu che dici? Ok. Ah, buono. Anche il quarto. Recuperato. Senti, spadina. Oh, che goduria. Che goduria attraverso il muro. Eccolo fatto, vai! Anche questo livello è terminato. Le 90 sfere di energia che ha raccolto hanno sbloccato il minigioco scontri volanti. Provalo con gli amici. Allora, scontri volanti mi ricordo qual è e non mi è piaciuto per niente. Ma in ogni modo, dato che entro in ogni livello senza power up, mi dispiacerà lasciare la spada. Ma amici, il video termina qui. Vi ringrazio per averlo seguito in descrizione. Trovate, come sempre, tutti quanti i link utili per seguirmi dove vi pare, se vi va. E ci vediamo, ovviamente, al prossimo video. Ciao! Ciao! Grazie per la visione!